Nuove attesissime uscite, originali esordi letterari, storie inattese dei grandi personaggi. È un viaggio nel cinema con un incontro dedicato a Troisi e una discesa in campo con un libro dedicato a Vialli. È tutto pronto per la seconda edizione di Zenzero Fest, il festival letterario di fine estate e inizio autunno, che torna dal 15 al 17 settembre e dal 12 al 15 ottobre, nel giardino pensile del palazzo della provincia e nella sala conferenze della biblioteca comunale. Si ricomincia, Zenzero Fest torna, per dire la verità non si è mai fermato, perché grazie ai nostri off abbiamo tenuto vivo questa offerta culturale per tutto l'anno, iniziata l'anno scorso quasi per scherzo, poi è diventata una cosa assolutamente seria. Abbiamo coinvolto tanti partner, istituzionali, associazioni, enti, che ci hanno permesso la realizzazione di questa seconda edizione. In questo paese la cultura e la lettura sono tornati di moda, l'associazione culturale ora si era proposta proprio di offrire un'ulteriore opportunità in questa città che obiettivamente ha tanta cultura e gli autori di libri sono tornati ad essere quasi paragonati agli attori, quindi i primi tre già sono autori notissimi, Pulixi, Veneruso e Fontana, già loro dicono tanto. Credo che sponsorizzare la cultura e sponsorizzare questi eventi che mettono in diretto contatto i cittadini con i libri, con gli autori, sia veramente una cosa molto bella.